I talenti si cercano tramite la giornata di oggi, 14 settembre, al Talent Day da McDonald's. La giornata in cui sarà possibile scoprire il lavoro da McDonald's in tutti i 600 ristoranti d'Italia. Questa giornata è il coronamento di una campagna pubblicitaria con protagonisti proprio alle nostre persone, in cui raccontano la loro storia, le loro esperienze e i percorsi di crescita. Infatti, McDonald's può essere l'inizio di un percorso, all'interno con corsi di formazione. Ogni anno eroghiamo 900.000 ore di formazione per tutti i ruoli all'interno di un ristorante, oppure può essere l'inizio di un percorso che regala delle competenze di team working, competenze di organizzazione del lavoro, di relazione con i clienti, che possono essere utili per il lavoro che si vuole fare nella propria vita. Oggi sarà possibile parlare con persone che lavorano all'interno del ristorante in tutti i ruoli, quindi dal crew al direttore, che racconteranno le loro esperienze in prima persona. Sì, McDonald's dà la possibilità di crescita. Nel caso della mia esperienza, questo è il ventesimo anno che lavoro in azienda, è un'azienda sana che mi ha fatto crescere. Ho iniziato come crew nel 99, il crew è l'addetto di base, poi ho fatto il manager, il direttore, ora responsabile di sei punti vendita. Perché ti dà la possibilità di relazionarti con clienti, colleghi, e fare ogni giorno lavoro di squadra. Grazie. Grazie.